Un'occasione che portiamo al sistema per la seconda volta grazie alla grande euforia, alla grande partecipazione della Prologo di Poggiunbricchio e poi al supporto delle istituzioni, da prima il GAL che in qualche maniera fa rientrare questo programma nel PSR e poi ovviamente il BIM e l'amministrazione comunale che crede in questo rispolvero di questo nobile prodotto, il tartufo bianco. L'obiettivo del sindaco, dell'amministrazione è fare in modo che questo bene venga documentato nel centro Italia, nell'Abruzzo, nella provincia di Teramo, nel comune di Crognaneto a Poggiunbricchio. Non leghiamo solo il momento dell'arte culinaria e della bellezza, insomma della partecipazione. Facciamo un laboratorio di pensiero, a me piace tanto lanciare questo messaggio perché costruiamo qualcosa per il territorio. Quest'anno abbiamo delle autorevoli menti, delle scienze politiche, il professor Giannino dall'Accademia di Firenze, insomma che ci dirà quale può essere il valore del prodotto del bosco e del sottobosco. L'idea quindi è quella di creare anche un reddito, una realtà permanente in paese affinché la montagna non rimanga uno spettro solitario tra i rupi. La festa del Duperbagnatum giunta oggi alla seconda edizione, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre. Sabato si svolgerà sia a pranzo che cena, mentre domenica si svolgerà esclusivamente a pranzo, un pranzo lungo che parte dalla mattina con la colazione contadina e arriva diciamo al crepuscolo. Ci saranno inoltre delle mostre d'artigianato antico, ci saranno delle escursioni al piano del monte che è la montagna sopra il paese, al borgo di Poggiumbricchio, più altre numerose sorprese che vi invito a venire a visitare.